Attenzione, Matri può puntare Cannavaro, è uno contro uno, Matri se ne va, Matri di fronte a Buffon, Matri! Fallone buono, Isco, potenzione regolare, a due per due con Manniger, Mariano Isco! Il gol del Catania! Sceglie poi Sardo, fa tutto da solo, ancora Sardo, la botta! Che gol! Fossi il presidente, manderei via subito l'allenatore, prenderei i giocatori, la taccherei tutti al muro e gli darei il calcio nel culo a tutti, perché non esiste giocare in questa maniera, non esiste nella maniera più assoluta, soltanto questo avevo da dire. Grazie a tutti!